Un saluto dal Tg della Mobilità al Gianicolo dalle 19 alle 24 è prevista la chiusura di via Garibaldi nel tratto compreso tra passeggiata del Gianicolo e via Giacomo Medici per una cerimonia. E questa notte tra le 22 e le 6 lavori nella corsia dei sottoviensassi a direzione via Gregorio VII. Lavori in Piazza Venezia nel tratto tra via del Prebiscito e Piazza San Marco, 19 linee di trasporto pubblico deviano in via del Prebiscito, Largo Argentina, via delle Botteghe Oscure e Piazza Venezia. Inoltre 13 linee in partenza dal Capolinea svoltano a destra senza effettuare il giro di Piazza Venezia. E lavori sino al 14 agosto lungo il tratto urbano della 24 sulla careggiata dell'autostrada in direzione del Raccordo e chiuso il tratto della tangenziale sino a Portonaccio. Per entrare in A24 è consigliato lo svincolo di via Fiorentini. E tutto appuntamento alla prossima edizione.